ma a me non piace però posso avere tipo un altro no vabbè è quello che costa di me ti sei spostato sì perché se no te lo buttava in testa mi sa mi serve un antibiotico affanculo ti posso sparare dov'è il mio oh biscuit eh ora ora spona ora spona ah madonna che paura tipo c'ho tanta tentazione in me dai disparate sei così nudo e indifeso lì sopra non hai manco gli sportelli ma qua c'è un campo con tutte le barracks bello unlock muzzi get in muzzi as pilot vai l'inglese vattene a cagare fai lezioni inglese tu a me biscuits eh oh ma lì c'è lì c'è tipo un bortello di zaino ma che cazzo vieni qui in questo qui dove eh ah ti vedo ma c'è altro di qua oh c'è 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 un c'è un ah no ma è rotto affanculo cosa hai trovato nulla nulla ma c'è dell'altro oppure posso oh sì ci sono delle tende militari di lì eh c'è anche delle barracks ah tu il tuo tu il tuo muzzi lo stai loccando o te ne freghi altamente no me ne frego altamente tanto chi vuoi che ci sia ora arriva un rumeno e te lo ruba ma fa il culo cosa hai contro il rumeno niente sei rumeno biscuit no aspetta che sto sto atterrando eh che culo ho trovato un antibiotico sto atterrando con molta cautela eh bravo ecco qua non fare gli anterragi a muzzo vabbè sì arrivo qua c'è tipo un acquido armato ma è finto eh sì e qui invece qui non c'è niente qui uno zaino questo me lo prendo io che zaino è british no not bad due antibiotici ho trovato poi te ne do uno ma io prenderei una sacca di sangue potendo è vero cos'è questa mucchiata di zaini hai guardato dentro questa barrack qua vado io ma che vado io ce ne è due vai tu affanculo un po oh ma qua c'è il corpo di uno aspetta qua c'è no ah ma non avevo un cazzo non aveva vaffanculo due corpi ci sono veramente e c'è un'ambulanza forse gli sta venendo a soccorre maledetta ambulanza qui non c'è niente qui non c'è niente qui non c'è eh ma ho capito cioè ste barracks sono state nerfate perché prima si trovava dentro l'anima adesso non c'è niente oh guarda ho trovato una gamba una che una gamba e con uno zaino non so se l'hai visto fammi vedere apri gamba è brutto sembra un saccappello vabbè do un'altra occhiata qua in giro qua c'è il cadavere di sto sfigato qua c'è questa struttura tipo di sacchi di sabbia ci sono robe dentro beh vai a vedere no niente vuota come il culo di un giro di scorpio che che schifo di scorpio no noi ci vogliamo bene scorpio non ti preoccupare io non li voglio bene tu li vuoi bene no perché dici le bugie e poi si offende eh ho capito ho perso il mio muzzi dove cazzo l'ho messo eh puzzi è qui vicino ah eccolo ok allora partiamo aspetta qui non abbiamo guardato verso noi e qua c'è delle sandbags si vabbè che se ne frega get in muzzi 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 biscuit muzzi di merda no muzzi di perda tu muzzi di merda muzzi di perda vaffanculo sto detto che tu muzzi di merda e muzzi di merda no ma qua c'è un carri armato non credo che funzioni però no assolutamente no ok sto ripartendo io eh hai hai col tuo fiero cottero e vado in bo-boom dove vado oh una macchina vabbè oramai che cacchio ce ne fote abbiamo il muzzo cottero rosa andiamo nell'altro aeroporto sono degli npc porca puttana lion volo alto volo alto volo via come una busta di d di plastica nel vento no la busta di merda non vuole troppo pesante stai zitto idiota aspetta fammi guardare allora dunque cos'è l'herb camp ah iroa che hanno un rincoglionito possiamo andare alla zitto maledetto possiamo andare trader city che cos'è trader city bash maledetto biscuit cos'è il trader city bash è un'altra altra trader city ah non ce ne fanno io sto andando aspetta ti spiego allora adesso passiamo in queste zone qua tutte no in cima alla mappa magari proviamo eh vabbè si però io sto andando all'altro aeroporto mettiti pure tu il waypoint cosa? ma non mi senti più ah stai parlando con altre persone eh maledetta mia madre maledetta madre senti io sto andando all'altro aeroporto vai no ma all'altro aeroporto non c'è un cazzo lion ah e allora dove vuoi andare dalla trader city bash magari eh io volevo guardare un attimo quasi in cima alla mappa riuscivamo a trovare eh perché qui ci spawnano gli elicotteri dacci un'occhiata anche te magari ci troviamo ah sorvolando guardo le zone io comunque si sento però non ti vedo le zone erbose sto guardando allora con sinistro ti spiego premendo il tasto sinistro lancio una granata sparo le granate dove sei che te la sparo in testa biscuit vaffanculo ah dove sei? ma non è lo asiva maledetta ma non ti vedo stai tranquillo no non ci sto tranquillo che se poi mi vedi me la tiri addosso davvero conoscendosi ah è ancora da parte quel video di warzee è tra i video tipo quelli dimenticati mettiamo una votazione se volete vedere il video di warzee dimenticato fatecelo sapere nei commenti aspetta un po qua sotto vedo roba eh sì ma è merda ci stanno tre tende militari quelle mediche ah bello schifo eh oddio mi stavo per schiantare ecco tra un po' si si leggerà Paolo ha un sacco di gente a casa sua che gli vuole cagare nel bagno vaffanculo e poi è stato ucciso anche vaffanculo aspetta di là ho visto cos'altro no non c'è un cazzo niente aspetta andiamo a Vibor perché secondo me a Vibor c'è un elicottero vabbè io sto sorvolando andando qua bello mi sto godendo il panorama sto facendo un sacco di di conoscenze oh mio dio che c'è? ho tirato una granata senza volerlo oh c'è un aereo un aereo un aereo si ma eh ho capito c'è un aereo però sei mezzo è mezzo arenato come mezzo arenato è mezzo arenato si è infilzato tipo in un laghetto quest'aereo come sei infilzato in un laghetto te l'ho detto ma io ho un audio troppo buono perchè è un audio così basso vabbè metti il segnalino a vivo fa poco rumore fa questo elicottero è bello è stelt è stelti infatti sembrava strano non avere aspetta ma se voglio scendere a vedere questo aeroplanino io è bello magari si riesce a recuperare ma non probabilmente no perchè è spawnato lì? secondo te? eh perchè gli puzza il culo eh mi sa bella che questo muzzocottero va anche veloce si si è buono buono vatti pull little l'unica cosa è che è monoposto quindi ognuno deve prendere il culo eh ma è un po' monopalla si come te oh ho trovato un c-130 lion che cos'è? è il cazzo il... l'aereo enorme com'è che trovi sempre tutti sti cazzi peschi? la facuta è un c-130 io non lo so pilotare oh sono caduto perchè sono caduto? come sei caduto? dimmi dov'è che ci vengo lo sai che io mi sento mi puoi dire dove sei così posso venire lo prendiamo aspetta ah te lo sai guidare un c-130 sì ho giocato su un'arma a 2 normale aspetta un po' ah vabbè allora se lo porti se lo riesci a portare al... dal trader ti danno 2 briefcase per quelle ci possiamo comprare un elicotterone grosso eh ok allora facciamo così ma mi devi dire dov'è però perchè se no io non riesco... cioè mi devi dare una coordinata esatto aspetta ma io ti sento anche io sono atterrato ah no aspetta ah no allora è il mio vaffanculo allora ok dimmi le coordinate eh le coordinate sono eh x 077 aspetta 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 calmo ah x sarebbe quale x non mi ricordo mai quello sopra quello sopra 0 77 si e poi y 017 017 ok quindi sei qui ok i'm coming tan 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 si è a 1500 metri forse senti veramente però mi dispiace lasciare qui questo elicottero tutto colorato era rosso e giallo che cos'era quel rumore? eh ti son cadute le cuffie? eh cinte game ok arrivi arrivo con coraggio ecco era lì era l'aereo ma anche benzina c'era la benzina c'era la benzina si 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 a me smetti di fare casino con le cuffie non non toccare stai fermo ah ma se no mia madre rompe cosa rompe? eh 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 se non tocchi i cabasisi eh? i cabasisi si ho capito ma cosa c'entra con le cuffie eh il muso se no ah ho capito cioè praticamente lei ti da una voce e tutti muti si si maledetta madre le madonna le maddi ecclo lo vedo ok arrivo Tan 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 Però quanto è sexy Tan 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 Oh mio Dio basta Qui Oh mio Dio Non ti capis Oh il capis Non ti ho pronto a fare lo spavetto Eccomi Arrivo a terra Guarda quanto è sexy Scoletta anche questo 530 Eccomi Andiamo madonna con tutta la foga Sai che probabilmente non decolla Oh che cacchio Bischi Cosa sta facendo I flair Che casino era Basta fer non lo fai sto passando Non ti fanno nulla E su Ok che tristezza Poi i flair sono piume Che gioco di merda Ok Allora io vado ma probabilmente non sale Fino a dove abbiamo spazio Non lo so non credo che gli sia Sai cosa potremmo far Ok ho visto di là potrebbe farcela Ci sei sopra No io vado col muzzo cottero Abbastardo No no Non è giusto però che cazzo Sei un mano a merda Mai fidarsi di lion Eh ho capito No è che almeno posso venirti a riflettere Zitto devo concentrarmi E la lion muore Non ne vado Ok No non ce la fa Non ce la fa Eiezione Sono morto comunque Fai schifo Non è che faccio schifo È che ha bisogno di più pista E non c'era la pista Vabbè Ma è spiloso almeno No No nemmeno Forse era meglio Se restavo dentro Se restavi dentro Non moriva Eh mi sa che moriva comunque però Senti recupera i miei ori Sì Se recupero i tuoi Intanto approfitto per chiudere il video Perché siamo andati avanti più che Esatto Più che a sufficienza Davanti a questa bellissima scritta You have perished Perished Io ora devo anche andare a mangiare Tra l'altro Che non ce ne fotte un cazzo Tra l'altro Esatto Vi auguriamo una buona giornata Se la giornata di oggi dovesse essere finita Mentre guardate questo video Guardate quello di domani Ho sentito qualcosa Sì Toccava una tazza E i biscuits Out Out Vai a mangiare Toccava una tazza